Insulti, aggressioni contro un agente, fermato in centro un uomo di 28 anni. Le marche tra zona gialla e arancione, domani l'assegnazione della fascia di rischio. Sicurezza in città, nuove telecamere al sottopasso dei cappuccini. Arriva domenica su Rossini TV, leucemie e covid, il dibattito di AIL con Alessandro Cecchi Paone. Grazie a tutti. Partiamo con la cronaca e nello specifico di un arresto che è stato effettuato dalla polizia di Pesaro nei confronti di un uomo di 28 anni, residente in città, che nella serata di martedì è stato segnalato al 113 dalla compagna per dei comportamenti molesti nei suoi confronti. Una volta giunti sul posto fuori dall'abitazione della donna in centro storico, gli agenti hanno identificato l'uomo in stato di ubriachezza. Alla vista delle forze dell'ordine e alla richiesta dei documenti, il 28enne ha reagito insultando i poliziotti e sferrando una gomitata contro uno di questi. Azioni che sono costate all'uomo l'arresto, convertito poi in sei mesi di lavori socialmente utili e due sanzioni, tra cui quella di violazione del coprifuoco senza giustificati motivi, per un totale di 500 euro. Ed ora cambiamo completamente argomento perché arriveranno proprio domani le comunicazioni ufficiali sulla segnazione della fascia di colore della Regione Marche per la prossima settimana. Una decisione che vede oscillare le marche tra la conferma della zona gialla e il passaggio in zona arancione con il boom di casi registrati nella provincia anconetana. E allora vediamo i dettagli in questo primo servizio. Ci sono anche le marche nella lista delle Regioni in attesa di conoscere le decisioni in arrivo dal Ministero della Salute riguardanti le nuove assegnazioni della fascia di rischio settimanale. La comunicazione arriverà nella giornata di venerdì, quando dalla cabina di regia nazionale saranno diffuse le scelte prese in base all'andamento dell'indice di contagio sul territorio regionale. Incerta quindi la posizione delle marche, che oscilla tra la conferma della zona gialla e il passaggio in arancione. Dubbi che fanno i conti con la recente ordinanza firmata dal governatore Francesco Acquaroli per limitare fino alla serata di sabato gli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia anconetana, nella quale negli ultimi giorni è stato riscontrato il numero maggiore di nuovi contagi. In attesa di conoscere la decisione riservata per le marche c'è anche lo stesso Acquaroli, il quale ha parlato di numeri che non segnerebbero il passaggio in arancione, sottolineando però che la decisione finale spetterà in ogni caso alla cabina di regia nazionale. Noi con i nostri uffici abbiamo fatto le solite proiezioni e i numeri non sono così da condannarci. Però detto questo poi c'è una cabina di regia, c'è un'elaborazione che viene fatta da Roma e non dagli uffici regionali. Quindi potersi esprimere in questo senso non è facile assolutamente. Io dico che aspettiamo anche con apprensione la comunicazione dell'RT parziale e da quell'RT già potremo avere qualche informazione in più. Il tendenziale dovrebbe restare un tendenziale buono per la nostra regione, però un conto è che a dirlo siamo noi, un conto è che a dirlo sia direttamente chi poi fa il giudizio definitivo. C'è il punto minimo, il punto massimo e il tendenziale. Noi riusciamo a calcolare il tendenziale. Il tendenziale sarebbe un tendenziale buono, però non sappiamo se questo viene confermato anche dai calcoli fatti per capirci dalla cabina di regia e dall'amministratore della salute. Sa che, voglio dire, a volte le formule possono portare a risultati differenti, quindi non posso esprimermi con certezza rispetto a qualcosa che non è stabilito da noi. Continuiamo e parliamo ancora di Covid e il consueto spazio dedicato agli aggiornamenti per quanto riguarda il bollettino sanitario che è stato comunicato nelle ultime 24 ore relativo alla regione Marche. Sono stati testati 7.399 tamponi, 4.994 nel percorso Nuove Diagnosi, 2.405 nel percorso Guariti. I positivi nel percorso Nuove Diagnosi sono 532, con la metà dei casi segnalati in provincia di Ancona e 82 registrati nella provincia di Pesaro Urbino. 17 i decessi notificati ieri sera, 5 vittime erano residenti nella provincia pesarese. Parliamo ora di sicurezza, perché saranno installate entro questa primavera le nuove telecamere di videosorveglianza per incrementare la sicurezza nella zona della stazione. Nello specifico ad ottenere un nuovo controllo H24, sarà il sottopasso dei cappuccini, teatro più volte di episodi spiacevoli e sul quale anche il quartiere aveva richiesto maggiore attenzione. Saranno installate entro la primavera le nuove telecamere di videosorveglianza nell'area della stazione. Osservato speciale sarà in particolare il sottopasso dei cappuccini, nel quale in diverse occasioni si sono registrati episodi di furto e vandalismo. Quella parte di città, dove è situato il monumento della resistenza, è una delle zone più attenzionate e più da attenzionare che l'amministrazione ha sempre avuto come priorità. È un luogo di passaggio, di incrocevia tra la stazione del treno, il centro storico, il parco Miralfiore, l'ospedale. È quindi un luogo sul quale le forze di polizia hanno svolto in questi mesi un lavoro molto importante anche di contrasto ai fenomeni di criminalità. Uno degli interventi che andremo a realizzare nei prossimi mesi, entro la primavera, è un intervento condiviso con la prefettura, con la questura, con le forze dell'ordine, è quello dell'installazione di due nuove telecamere di videosorveglianza. Due lato da sottopasso dei cappuccini, lato stazione del treno, che quindi riprenderanno, saranno delle telecamere di contesto per quell'area e per anche la zona del monumento. Dall'altra parte, invece, nell'altro lato dei sottopasso dei cappuccini. Tra l'altro telecamere di elevata tecnologia, con una qualità dell'immagine elevata, con tutta una serie di funzioni di piattaforme di ultima generazione. Abbiamo avuto anche un incontro insieme all'assessore alla solidarietà, Sara Mengucci, insieme agli agenti di strada, di fatto chi si occupa di iniziare anche un percorso di reinserimento nei confronti di inclusione sociale, nei confronti di ragazzi che non sono lì per chissà quali finalità delinquenziali, ma che nel contesto creano una situazione, una sensazione che può essere di insicurezza. L'annuncio dell'assessore Pozzi è stato accolto favorevolmente dal quartiere, che da tempo richiedeva interventi per intensificare la sicurezza dell'area. Siamo contenti che la cosa sia stata accolta e quindi l'assessore Pozzi in questo caso abbia recepito la nostra richiesta, la richiesta del Consiglio intero del quartiere, perché bisogna dare atto, anche il Consiglio del quartiere ha fatto questa richiesta. Noi vorremmo non solo le telecamere, perché sicuramente le telecamere sono una bella cosa. Se poi vengono fatte quello che hanno detto, e sicuramente sembra che siano delle telecamere di alta efficienza, naturalmente è un bel occhio sulla zona e può portare veramente a un risultato ottimale. Però crediamo che anche una presenza in zona di un vigile di quartiere, che comunque passi e comunque ascolti la gente, e crea naturalmente quello che è la sicurezza nel totale della riuscita di questa cosa. Non solo sicurezza, ma anche riqualificazione. L'assessore Pozzi ha infatti annunciato che insieme ad altre realtà sono in fase di discussione alcuni interventi di manutenzione volti a migliorare l'aspetto della zona. Abbiamo avuto questo incontro insieme a Legambiente, Lions ed altri, perché c'è l'attenzione da parte di tutta la città su quel luogo. Un'attenzione che negli anni passati aveva portato anche a delle proposte di rivedere quello che può essere il posizionamento del monumento della resistenza. Insieme a Legambiente abbiamo individuato alcune priorità di piccoli interventi di manutenzione per rendere più appetibile e più decorosa quell'area. Quindi da interventi che andranno condivisi con Aspes per quello che riguarda i fiori e le fioriere ad altri piccoli interventi di manutenzione e di sistemazione della pavimentazione. Continuiamo a parlare di sicurezza, in questo caso però ci spostiamo sul versante della viabilità perché sono diversi i punti del progetto presentato dalla lista consigliare Forza Pesaro un gran bel po' per migliorare il transito ma anche la circolazione nell'area del campus scolastico. In più la sicurezza degli studenti, viste le tante fermate dei bus dislocate proprio in quella zona. Vediamo. Traffico costante è in aumento nelle ore d'ingresso e di uscita da scuola degli studenti. Fermate degli autobus dislocate in più punti, alcuni dei quali non ottimali dal punto di vista della sicurezza e un attraversamento pedonale per raggiungere le classi dove i mezzi sfrecciano a gran velocità. Non sono una novità le diverse criticità segnalate nell'area del campus quando si parla di viabilità. A tal proposito, il gruppo consigliare Forza Pesaro un gran bel po' in seguito ai tavoli avviati con Adrebus, quartieri interessati, assessori di riferimento e tecnici del comune, ha elaborato una mozione prossima alla discussione in consiglio comunale contenente diversi progetti per apportare delle modifiche alla circolazione dell'area. Un nuovo piccolo tratto stradale, la modifica dell'incrocio tra via Solferino e via Guido d'Arezzo e la realizzazione di un nuovo parcheggio. Misure che porterebbero agli studenti nuove postazioni in cui poter salire e scendere dai bus in spazi più sicuri e che allo stesso tempo hanno lo scopo di alleggerire il traffico in tratti stradali dove si condensa il transito dei mezzi. Ultimamente il gruppo consigliare Forza Pesaro un gran bel po' insieme a tutta la maggioranza e alla giunta in particolare grazie all'assessore Emilia Della Dora, Aidi Morotti e Denzo Belloni abbiamo cercato di pensare a una soluzione. La principale criticità è legata al fatto che si arriva all'interno del campus da poche direzioni quindi chiaramente il traffico si crea in maniera molto forte solamente in alcuni punti. Quindi l'idea è in linea con il piano urbano della mobilità sostenibile di cercare di far arrivare i veicoli, gli autobus e le auto da punti diversi all'interno del campus. Tre, nello specifico i punti presentati per queste modifiche della circolazione, quali sono? Sì, sono tre punti che è importante specificare che sono punti che non sono collegati uno con l'altro quindi possono essere fatti a step in momenti diversi. Il primo è quello di creare un piccolo tratto stradale tra il parcheggio che si trova alle spalle del liceo scientifico e del Benelli che metterebbe direttamente sulla rotatoria tra via Solferino e via Goito. Questo permetterebbe agli autobus in arrivo da Urbino di non dover arrivare fino a via Goito per tornare indietro. L'altra è invece quella di migliorare l'intersezione tra via Solferino e via Guido d'Arezzo per permettere anche qui di evitare che i pullman tornino sempre nello stesso punto e l'ultimo è quello di creare un parcheggio che può diventare poi in futuro anche scambiatore dietro l'attuale Mamiani, ex geometra, in modo che gli autobus in arrivo da Urbino si fermerebbero su quel parcheggio e non dovrebbero arrivare ancora fino a via Solferino. E sempre per quanto riguarda il discorso viabilità al campus scolastico sono diverse le voci degli studenti che hanno segnalato la pericologità dell'attraversamento pedonale posto in via Solferino. Diversi infatti sono i ragazzi che negli orari di ingresso e di uscita dagli istituti si trovano a percorrere questo attraversamento pedonale su una strada molto trafficata e a quattro corsie. Questa è un'altra criticità che i ragazzi che abbiamo incontrato in questi giorni proprio negli orari di ingresso nelle scuole che abbiamo con loro verificato è la pericolosità di via Solferino perché le auto arrivano in maniera molto massiccia e anche con una velocità molto elevata. Quindi quel miglioramento di intersezione permetterebbe ai ragazzi di attraversare più in sicurezza ovviamente. È importante evidenziare che questa mozione nasce da un grandissimo lavoro fatto con i quartieri 2 e 10 che sono quelli interessati dal campus da un gran lavoro con la Giunta, con i cittadini e con Adribus che chiaramente aveva necessità di capire bene quale potrebbe essere il tratto per far girare bene gli autobus. L'assessore all'operatività del Comune di Pesaro Enzo Belloni sempre molto attivo sui social ha proprio oggi segnalato attraverso la sua pagina Facebook il verificarsi di un nuovo atto vandalico in città che riguarda la siepe adiacente alla fermata dei bus di via Togliatti presa di mira e distrutta a sassate. Come scrive lo stesso assessore però cittadini e residenti non sono rimasti a guardare e avrebbero segnalato i responsabili dell'accaduto permettendo di identificare uno dei fautori dell'incivile gesto che dovranno ora risistemare il danno effettuato. Da domani si potranno prenotare in tamponi antigenici rapidi nelle farmacie delle Marche. Per la prenotazione sarà necessario telefonare il numero 0721 37 24 73. Il costo sarà di 18 euro e non sarà necessario essere in possesso della ricetta medica. Nel Tg di domani sera vi illustreremo nel dettaglio come si eseguiranno i test all'interno delle farmacie comunali di Pesaro e Gabice Mare. Con l'arrivo del 28 febbraio, giorno del non compleanno di Rossini, si avvicina l'avvio della settimana rossiniana 2021 che quest'anno sarà tutta digitale a causa del Covid. Domenica 21 febbraio, proprio su Rossini TV, si taglierà il nastro della manifestazione a partire dalle 17 con la presentazione di Bravo Bravissimo, il libro gioco per avvicinare bambini e ragazzi a Rossini attraverso un percorso a fumetti che reinterpreta il classico gioco dell'oca e poi a seguire alle 17.15 andare per fiabe. Il festival di teatro per bambini presenta in streaming dal teatro sperimentale Gioachino qua, Gioachino la, storie di Rossini bambino. Tra le riaperture previste con il passaggio delle Marche in zona gialla c'è anche quella che riguarda la Pinacoteca Civica Vernarecci di Fossombrone che dopo i lavori e i mesi di chiusura offre ai suoi visitatori la possibilità di visitare anche la loggia aerea, uno dei più suggestivi della feltresca Corte Alta. I musei del comune di Fossombrone che vengono gestiti da Confcommercio sono visitabili dal lunedì al venerdì negli orari 10.13.15.18. E allora attenzione perché domenica alle ore 21.15 non perdetevi un approfondimento molto molto interessante che vedrete su Rossini TV. Una serata promossa da AIL, un dibattito che ha come obiettivo quello di portare chiarezza sui rischi relativi al Covid-19 nei pazienti affetti da leucemia. Diversi gli ospiti presenti alla serata come ci anticipa nella prossima intervista il presidente della sezione pesarese di AIL, Massimo Sierra. Le tematiche, lo dice già il titolo, si parlerà di leucemia e Covid perché c'è molto a voler sapere da parte dei nostri pazienti soprattutto se possono o non possono, se questa Covid può intaccare chi ha la tricemia come affrontare questo problema. Quindi ci saranno dei fatti, quindi verrà raccontato dal nostro professor Bisani che cosa è meglio fare e cosa non è meglio fare, il presidente dell'AIL ci ha già stato scritto, ci limiterà soltanto a dire poche parole in merito all'AIL il nostro sindaco, siamo molto contenti che abbia accettato l'invito a partecipare a questo dibattito, parlerà sicuramente del nostro territorio come giusto che sia e di cosa sta facendo e poi c'è il big ospite Alessandro Cecchi Paone che oltre a parlare del suo libro, perché ha appena scritto un libro appunto del Covid segreto, anche lui entrerà in merito a questo discorso del Covid e cosa sta succedendo, cosa succederà parlerà anche dell'abbinamento Covid e leucemia e tutto domenica sera su Rossini TV, canale 633 sono raccolti dei fondi per aiutare la ricerca scientifica per aiutare l'assistenza domiciliaria che è la nostra mission ma la cosa bella è che i fondi erano raccolti non solo nella nostra zona nelle Marche grazie a Rossini TV ma anche esportiamo il Marchio AIL anche all'estero, lo esportiamo in Inghilterra grazie al gemellaggio con London One Radio, la radio ufficiale degli italiani a Londra ci aspettiamo che tutti coloro che saranno davanti al televisore domenica sera e collegati sui vari social seguono la trasmissione che sarà molto interessante e magari un piccolo contributo, ma di tanti può fare molto per aiutare questa missione che l'AIL ha da sempre in campo E ieri pomeriggio nella sede della Simoncelli Group a Belforte del Chieti si è svolto il terzo appuntamento dell'osservatorio regionale sulla specializzazione intelligente protagonista questa volta il settore della meccatronica potrete vedere poi lo speciale in onda su Rossini TV in prima serata la prossima settimana, mercoledì 24 febbraio nel frattempo però vi diamo questa anticipazione Stiamo lavorando per crescere come cultura industriale per avere una visione industriale una progettualità industriale che serva alle prossime generazioni di impresa per capire su che cosa la regione Marche investirà ovviamente l'investimento della regione è sempre un confinanziamento del privato quindi si tratta sempre di trovare i soldi che mettiamo a disposizione per fare in modo che generino altri soldi altri investimenti quello che si chiama moltiplicatore economico la regione se dà un contributo c'è sempre un contro contributo del privato quindi in qualche modo questa eccellenza si va raddoppiando dobbiamo però non sbagliare la programmazione perché se noi non individuiamo il modello economico di riferimento rischiamo di fare i contributi a pioggia che non servono per rilanciare la nostra economia quindi abbiamo una visione chiara vogliamo investire sugli ecosistemi vogliamo investire sulle filiere creando innovazione, trasferimento tecnologico competenze, innovazione di processo e di prodotto perché riteniamo che la manifattura marchigiana potrà giocarsi un ruolo importante con la ripresa economica se e soltanto se riuscirà ad essere molto competitiva siamo in compagnia di Letizia Urbani che si occupa di formazione quindi occupandosi di formazione noi oggi abbiamo sentito un concetto che ci piacerebbe capire veramente meccatronic cosa si intende in realtà? beh, è un bel mix che racchiude competenze in ambito meccanico in ambito elettronico e in ambito informatico un prodotto meccatronico è un prodotto intelligente che consente a chi lo utilizza di semplificare il lavoro che sta facendo ovviamente meccatronica si sposa in modo perfetto a tutto quello che è processo produttivo quindi meccatronica si sposa anche a un prodotto ma il miglior risultato viene dato quando la meccatronica si applica al processo produttivo e soprattutto a processi di prodotti massivi perché? perché poi l'intelligenza che è a bordo di quel macchinario quindi con quel macchinario sviluppo un processo produttivo una lavorazione di qualsiasi genere o un assemblaggio questa intelligenza consente di semplificare il lavoro di chi opera su quella macchina e consente poi di alleggerire quel lavoro in chiusura andiamo a vedere che cosa è successo alle nostre squadre sportive stiamo parlando della Vispesaro e dell'Alma Juventus Fano purtroppo non ci sono risultati positivi e come vi raccontiamo in questo servizio turno infrasettimanale amaro per il calcio locale che ieri ha visto scendere in campo la Vispesaro e l'Alma Juventus Fano i biancorossi in trasferta contro la Tristina sono stati sconfitti con il risultato finale di 3 a 2 dopo che nel primo tempo i ragazzi di Mister Di Donato erano in vantaggio di due reti sugli avversari una prestazione importante contro una squadra forte in un campo difficile abbiamo avuto la bravura di andare 2 a 0 nel secondo tempo forse abbiamo preso col presto però abbiamo avuto la forza di reagire abbiamo sfiorato tre volte il 3 a 1 e poi abbiamo subito la rimonta con due giocate importanti due episodi a favore loro il rammario è che il tempo specialmente il terzo gol era scaduto da un minuto perché era 4 minuti di recupero abbiamo preso gol al quinto minuto di recupero clamoroso e niente dobbiamo ripartire dalla prestazione importante perché come abbiamo fatto oggi le partite partono da 0 a 0 non ci sono partite scontate perché oggi ti ripeto se c'era una squadra che doveva vincere la vi spesero delusione anche per il Pano battuto dal Cesena per 2 a 1 e con l'ultima rete degli avversari segnata su rigore nei 4 minuti di recupero fa tanta rabbia perdere in questa maniera perché ovviamente prendere una ripartenza 95esimo su un calcio piazzato a favore nostro e non far fallo è dura da digerire ovviamente quando succedono queste cose e mi prendo io responsabilità facciamo dei cambi e chi entra non entra la grinta e la voglia giusta non ci siamo questi ragazzi devono capire che anche 10 minuti un quarto d'ora chi entra deve dare tutto oggi questo non è successo la colpa è la mia che vi ho fatto entrare domani ne parleremo non è giusto che sia ma io voglio gente che lotti in campo siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale come sempre vi informiamo su quella che è la programmazione su Rossini TV a partire da questa sera appunto continuiamo a parlare di sport in questo caso il basket notizie molto più rasserenanti come ben sapete che verranno sviscerate nella puntata di questa sera sarà un commento alle Final 8 con Luciano Amadori Ario Costa Walter Magnifico e Franco Bertini questa sera alle 21.15 in replica alle 22.30 non perdetevi questa puntata e poi domani torna a Casa Rossini domani a Casa Rossini in diretta alle 10 con Paolo Pagnini ci sarà Nicola Baiocchi che è consigliere regionale Antonino Di Gregorio che è un consulente editoriale e ci racconterà tante novità per quanto riguarda i libri e poi Paolo Casisa che è musicista scrittore e relatore sulla storia del rock domani 20.30 su Rossini TV in diretta una nuova partita in questo caso protagonisti sono Signor Prestito CMB contro Little Service Calcio 5 Pesaro tutto in diretta su Rossini TV alle 20.30 e poi vi ricordiamo appunto che domenica sera le 21.15 sempre dedicato alla nostra prima serata vedrete questo approfondimento è un piacere per noi avere Alessandro Cechi Paone negli studi di Rossini TV sarà un confronto sarà un momento di dibattito molto interessante per fare chiarezza come ho detto poco fa nel servizio del Tg per fare chiarezza sulla leucemia e il Covid questi sono gli ospiti che ci saranno presenti e allora come vedete la nostra programmazione vi offre tanti spunti di riflessione tante cose utili da vedere e da seguire vi ricordiamo di seguirci anche sul nostro sito e sulle nostre pagine social come ad esempio Instagram e Facebook per essere aggiornati su tutti i nostri programmi grazie mille e buona serata